Siamo con gli amici preparati, di nuovo una giornata di sport per stare insieme. Sì, per stare insieme, per conoscere nuovi ragazzi, perché è anche bello questo, di conoscere altre realtà. Ci fa molto piacere che partecipano le ragazze del volley e delle querce, che si sono mischiate a noi. Noi infatti adesso facciamo delle piccole squadre di quattro, dovevamo fare da sei, poi ci sono state purtroppo all'ultimo momento, non è facile organizzarsi con questi ragazzi. Però siamo molto contenti di partecipare anche quest'anno e una cosa che ci piacerebbe fare è che magari qualche volta, anche durante l'anno, incontrarsi per fare altre giornate di sport. Noi facciamo il basket, cerchiamo di fare altre attività, però ci piace sempre cambiare e giocare. I ragazzi sono contentissimi, la giornata è perfetta perché non c'è il sole, si sta benissimo, ci vogliono bene perché doveva piovere. Quindi che dire, siamo contenti, il coach, abbiamo anche fatto un piccolo dono per ricordare questa giornata e per ricordarsi di noi. Siamo gli amici disparati. Ciao! Ciao!